L'ospedale Sampio torna al centro del dibattito politico ed in particolare arriva nell'aula di Palazzo Mosti. Il question time dedicato ai chiarimenti dell'opposizione ha spaziato su numerosi argomenti, da città spettacolo ai monopattini elettrici, passando per il parcheggio di via Porta Rufina ed il megaparcheggio di via del Pomerio. Argomenti a cui si è aggiunto anche l'interrogativo posto dal leader di Alternativa per Benevento. Il consigliere di minoranza Luigi Diego Perifano ha voluto spiegazioni sulla questione, in particolare sull'approvazione dell'atto aziendale dell'ospedale di Benevento. Domande vase dal vice sindaco De Pierro e collegate anche ai dubbi manifestati nelle ultime settimane dal consigliere regionale Gino Abate, per poi chiarire che la problematica era stata sollevata dall'opposizione da tempo. Siamo intervenuti pubblicamente quando si è trattato di lamentare il rapporto critico fra il managgiamento ospedaliere e le organizzazioni sindacali. Siamo intervenuti pubblicamente quando si è trattato di denunziare la situazione in cui versava il reparto maternità in fase di gestione del Covid. Quindi siamo stati molto attenti alle problematiche dell'azienda ospedaliera, prima e indipendentemente dalle posizioni assunte da altri. Abbiamo colto in quelle dichiarazioni un elemento di preoccupazione convergente con le preoccupazioni che nei mesi trascorsi noi stessi autonomamente abbiamo rappresentato.